Quello che possiamo dire stasera è che Rabiot non ha fatto una scelta economica decidendo praticamente di rinnovare con la Juventus e questa credo che sia una notizia, ripeto, non dettata dall'aspetto economico perché avrebbe potuto guadagnare molto di più al Manchester United evidentemente legato alla Juventus, legato a Massimiliano Allegri che ha puntato su di lui anche quando era criticatissimo ha fatto una scelta, una scelta reciproca che nelle prossime ore porterà alla firma di un altro anno di contratto Mademoiselle, io non voglio raggiare, promis juré io sono celibataire, depuis hier, p***** io non posso fare ad'enfant e buon, c'est pareil reviens, 5 minuti, qua, io t'ai pas insulté io sono poli, courtois e un po' fort, burré ma per le meccan come me, io avevo altre cose a fare io non avrei avuto hier, io ero siete formidabili io siete formidabili io siete formidabili siete formidabili Grazie a tutti 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 Grazie a tutti